Sono novità? Novità dell'ultimo momento? Sono assolutamente infiducioso. Però ancora la quadra non si è trovata? Sto lavorando per... Segretario, a che punto siamo? Buono. Buono? Sì. Cioè per una soluzione quando? Per me anche domani. Anche domani? Con una sola chiama? Abbiamo chiesto di votare due volte per essere veloci. Penso che offriremo proposte di altissimo livello. Ci farete di nuovo dei nomi stasera? Quindi quando alletta contro... Ci fermiamo se no ci facciamo male. È previsto un vertice? Questo è il sequestro di persona però. 15 anni di carcere. Senatore perché no a Casini? Posso dirvi che sto lavorando sui sì? Non fatemi... Non fatemi... No, no, no. Ma da dove viene? Allora voglio risolvere la questione. Bene? In fretta, col più ampio consenso. Non sono l'uomo dei no. I no li lascia ad altri. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero raccolgano il sì di tutti. Di tutti perché mi si richiedono personalità al di fuori della politica, giusto? Senza tessere in tasca, giusto? Apprezzate a livello nazionale e internazionale, giusto? Servitori dello Stato, giusto? Ho fatto un pomeriggio di lavoro e di incontri e adesso vado... Hai incontrato con te lì? Adesso va? I voti a massimo? No, no, no. Ho fatto un pomeriggio di incontri su persone su cui andare a proporre.